Una situazione di stallo che rischia di provocare il blocco del servizio Mensa per gli studenti dell'Università dell'Aquila a partire dal prossimo gennaio e per almeno due mesi. E' il rischio prospettato questa mattina ai consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci e Gianluca Ranieri da una delegazione di studenti dell'Ateneo che li hanno incontrati nella sala Polidoro dell'Emiciclo. I ragazzi hanno evidenziato che l'Azù, il cui consiglio di amministrazione è in prorogazio dallo scorso maggio, non approva ancora il bilancio dell'ente e questo impedisce di procedere al nuovo bando per l'affidamento del servizio Mensa. Gli studenti hanno chiesto ai consiglieri un intervento deciso affinché si proceda in tempi brevi alla nomina dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione dell'Azù così da sbloccare l'iter. Chiedono anche che vengano ridefiniti i parametri di ripartizione dei fondi destinati al diritto allo studio che devono tener conto della situazione diversa che l'Università dell'Aquila si trova a vivere dopo il terremoto del 2009. Per garantire la continuità didattica, infatti, l'attività è strubicata in sedi diverse e distanti tra loro e questo ha portato a un inevitabile aumento dei costi di cui oggi la normativa regionale non tiene conto. Il risultato è che l'Ateneone esce fortemente penalizzato in termini di servizi agli studenti con pesanti disagi per coloro che hanno scelto di studiare all'Aquila. Pietrucci ha proposto di convocare un nuovo incontro per giovedì pomeriggio all'emiciclo a cui saranno invitati anche i vertici del Lazzo. In rappresentanza degli studenti sentiamo Mario Schettino. Il problema principale è che non offrendo più servizi non si vede il perché uno studente debba scegliere la città dell'Aquila come città dove venire a studiare. Quindi, andando a limitare i servizi che la città offre, già in una situazione difficile come la città dell'Aquila vive a seguito del sisma del 2009, togliendo anche dei servizi che non si trovano in altre città e che qui all'Aquila ci sono, non vediamo il perché uno studente debba scegliere l'Ateneo dell'Aquila e venire a studiare. Quindi, per la città che ha la vocazione di città universitaria, che deve essere attrattore per gli studenti di tutta Italia e non solo della nostra regione, togliere tutti questi servizi lo limiterebbe, andrebbe alla morte di un Ateneo.